Mi stavo sbagliando, stavo portando via l'albero, in realtà ho portato via l'albero e ho rimesso un cespuglio. Vediamo se sono pronti, sì? Allora, è il gruppo dei più piccoli che propone un gotto dei fuoribondi, un principe non granché simpatico che incontra una bimba simpatica. Vediamo che cosa succede. Scusa, hai a disgraziato di uno, ma lo sai che sono io? Sono il principe di un gotto del fuoribondi. Ma anche tu sai che sono io? Sì, invece che lo so, tu sei un disgraziato con una valigetta che ve in giro per i parchi per assaturare le ginocchia di tutti quelli che passano. Non è vero! Sì, invece, ora ti faccio le storie. Fermali! Ah, io che male! Fermali! Ah, ma penso a te un disgraziato che ve in giro a saturare le ginocchia di tutti. Oh, una guardia! Perché sta orando? Un disgraziato! È passato qui e mi ha fatto un altro ginocchio! Potresti vestirmi? Era alto più o meno così, aveva una camicia fucsia e poi è scappato via. Ok, intanto se vuoi vedere il medico. Va bene. Forse dovrò segrete il consiglio della guardia, dovrò farvi vedere da un medico. Ma sì, dai! Medico, medico! Allora dovrò andare all'ospedale visto che non c'è guardia. Medico! Ah, eccolo qua! Ma non li hanno portati con una bollicetta al ginocchio? Ma come fa, sapendo? A che punto? Eh, sì, li hanno portati con il ginocchio. Buonasera, niente. Sicuro? Sicuro. Intanto devo andare allo spedale. Va bene, ok. Oh, sono sorpreso! Appena incontro però quel ragazzino lo arresto subito. Eccolo lì! Ora ti arresto! Perché tu intanto arresto? Perché prima sei scappato. Ma poi sono riformata. E quando? Prima di prendermi con il cappello, dopo per il cance. Allora, ed è tu? La guardia? E anche il medico? Sì, visto che non sai che sono io? Cavoli, mi stai strafato simpatico. Perché non viene a metà scelta? Ho avuto domen Re ri 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 Grazie a tutti